La serata è andata bene, siamo felici che la gente ci ha fatto sentire anche stasera il suo calore in questa serata piccante. È stata una serata focosa da tutti i punti di vista e andiamo avanti, andiamo avanti e vediamo che succede, insomma. Speriamo che questo sia l'inizio di un bel percorso. A CESPOINT è felice di poter dare spazio e dare una mano a tutte quelle iniziative, come stasera per ciclofficina, che possono dare un contributo alla società crotonese. Grazie di cuore siamo aperti a tutte le iniziative che nel sociale possono far dare un passino avanti a quello che è la costruzione di un diverso modo di vivere la nostra società. Grazie a tutti.